Mi chiamo Lorenzo Lozan, sono nel movimento Wikimedia da parecchi anni. Sono entrato scrivendo su Wikipedia. Il contribuire a un progetto di conoscenza collaborativa era quello che mi interessava in quel momento, è la cosa centrale. Wikimedia e Wikipedia sono costruiti attorno e con lo scopo di condividere la conoscenza. Al contempo sono anche costruiti da persone e sono costruiti come una comunità. Questo è essenziale nel modo in cui funzionano tutto il sistema di costruzione della conoscenza, di correzione degli errori, il modo con cui assicuriamo che ci sia ciò che è interessante, che le cose siano corrette e che tutto funzioni, è costruito sulla rete di persone che ne fanno parte. E questa è una cosa che dovremmo riconoscere di più, cioè pensare a noi stessi, a quello che facciamo, più come un movimento di persone, accogliendo le diverse voci e ascoltando le diverse voci anche quando sono in conflitto fra di loro e specialmente quando sono in conflitto fra di loro. Siamo un movimento di persone che hanno opinioni e che tendono facilmente ad entrare in contrasto fra di loro, a litigare, a discutere su quello che... come dovrebbero essere fatte le cose. Questo mi piace, mostra passione e capacità di portare avanti delle idee anche nuove. È importante, dobbiamo continuare a farlo, ma non solo pensando alle idee, a quello che stiamo facendo, ma anche creando connessione e contatto e contatto con persone, creando spazi per le persone per parlare e discutere e anche costruendo i nostri eventi non solamente come uno spazio per condividere delle conoscenze, importante, ma ne abbiamo anche altri, ma riconoscendo che quando ci incontriamo, quello che abbiamo sono fondamentalmente non delle conferenze, ma degli incontri della comunità, dei luoghi in cui una comunità si ritrova e sono opportunità per rafforzare la comunità stessa.